Prosegue la battaglia sindacale alla Celta di Tortoreto, l'azienda di telecomunicazione nelle prese con una difficile e complicata vertenza e per la quale 80 famiglie al momento sono rimaste a casa. Nella mattinata di oggi le organizzazioni sindacali FIM, CISL e FIOM CGL hanno dato vita ad un'assemblea in azienda per concordare e perfezionare insieme alle maestranze le richieste da porre in discussione sul tavolo del Mise, per l'occasione convocato per il pomeriggio di oggi a Roma. La volontà dei lavoratori è quella di trovare con la ausilio del tavolo tecnico costituito al Mise delle forme di sostegno che permetteranno all'azienda tortoretana di tornare a produrre al più presto, visto la grande professionalità dei lavoratori. Noi condividiamo sempre l'idea che con i lavoratori bisogna parlarci prima, durante e dopo le vertenze dicendo sempre la verità. Il punto della situazione che stiamo facendo è quello di raccontare esattamente come è andata. Una vertenza partita in maniera strana con una procedura di cessione per cui noi non conoscevamo né l'acquirente, che in realtà poi non c'era, nelle condizioni alle quali volevano cedere i lavoratori e eventualmente accompagnare chi non dovesse rientrare nel perimetro. Una situazione per noi inaccettabile che ha fatto sì che tramite le mobilitazioni degli stessi lavoratori e dei nostri delegati ha portato alla convocazione al Ministero. Noi chiederemo che venga attivato uno scouting veloce per poter trovare un acquirente interessato a un know-how importante che c'è all'interno del sito di tutta la SELTA e soprattutto del sito di Tortoreto e discutere degli ammortizzatori sociali in scadenza che hanno bisogno di essere prorogati perché altrimenti si rischia di avere un disastro sociale in una regione già fortemente compromessa, tanto da rientrare nell'area di crisi complessa che c'è in Italia. Il sito di Tortoreto è un punto molto importante, grandissime le professionalità. Esatto, ed è il problema che si vede a livello nazionale, nel senso che si ha sempre la difficoltà a reindustrializzare, a trovare acquirenti e spesso disperdiamo competenze che già scarseggiano. Noi abbiamo una fortuna, a Tortoreto c'è questa possibilità, ci sono grandissime competenze e tecnologie all'avanguardia che vengono utilizzate nella rete delle comunicazioni che non vanno disperse e l'impegno del Mise deve essere concretizzare tutto questo e rendere onore al merito dei lavoratori e di ciò che sanno fare.